Salve compagnia di guarda, sono Zrarx e questo è The War 2 Retribution, The War 2 Retribution. Allora, come c'è una campagna? Abbiamo circa... Chaos? Non c'è una musica di forza del warp oppure I tirani di... No, i Eldar Sono di garazza, ma... Noi piacciono molto i Eldar. Abbiamo i... Orchi, che anche io uso Orchi nel gioco di tavolo Cioè, ho Ganso di Malutra come... Oppure Space Marine, il nostro... Da Omelis Oppure l'Imperium Guarda l'Imperiale Ehm... 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 Il guarda imperiale è sempre morto. Ma le incursioni solo cresciono in numero. E appena sono verificati con la insurrezione e la maldità sulle le regole. Ora il sector si senta senza aiutare. Soprattutto da guerra constantemente e semplice. Siamo marini spaziali. Siamo le raven di sangue. Siamo lavorati. Ma anche siamo in conflitto con l'unico. Azariah Chiris, nostro maestro e il maestro libriano, ha dichiarato i heroi di Aurelia essere rinocati. Ora siamo scocciati dai nostri amici. Amici che non sapevano di attenzione del maestro maestro. Un maestro 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 di spaziali, Un maestro maestro di spaziali, un militia di disordere e tumore. Demoni, renegati. Un sector che conosce solo la guerra. Il Imperium ha avuto sufficiente. Una soluzione resta per il sector. Una soluzione con cui sono molto familiare. molto bene. Non è perdita, però. Adrastia, inquisitor di Ordo Hereticus, ha entrato il fray. Lei conosce la verità di Cairus, ma non ha il potere di evitare il comune storme, a meno di distruggere il traito. Con la autorità di combattere i soldi di mani per quasi ogni modo, lei si tratta di ogni forza che può fare. Alliei tra le forze che sono ancora loyali all'imperio, e anche gli iniziati con un interesse di preservare il settore, se non solo per la guerra in futuro. Possiamo solo sperare di trovare gli alliei alliei, ma sperare è ovviamente il primo passo al passaggio per la scuola. Per la scuola. Ok, questo è quello che ha detto. Per la scuola. Ok, qui c'è qua. Oh, che succede? Oh, che succede? Ok. 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 Uccide per tutti i bastardi. Ma che sono? Bealtine forse? O Ulder. Non so quale... Akramondo ha portato uno stile. Eldar. Mazzatele! C'è un nostro compagno per terra. Io sono Bealtine. O Bientiane lo trovo. Rineo nel mare. O eccolo, pensavo che... Sarebbe più difficile da trovare. O eccolo, pensavo che fai... Vigliatelo con una bella pedata. Perfetto. Dovessi davvero diventare questi stupidi gits? O sei solo dormito sul lavoro? Questo mi offende Lupitano. Non sono del tipo che si fa fregare dalle scimmie. Zimmie. Dalle scimmie. Tu hai l'armatura! E' imbracciante! Ehm... 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 C'è la pompa, c'è questo. Perfetto. Ok. Ok, let's... Andiamo avanti. Ehm... Puoi essere... Oh cazzo, scusate. Oh, sta qua. Sta a morire! WOOOOO! Ehm... 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 ến... Ehm... 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 io sto... si un nai bran... nai bran... sparite... sparate... sparate... ok orchi dai... ammazzatevi... però se sono il capitano... ammazzatevi... vanno insieme verso su... non so... non so un arbre... ammazzatevi... spara... spara... vanno via il mio capitano qua... se no moriamo... spara... spara... che spaventum eh... spara... vuoi sparare? ok... andiamo... quest'azione è finita e oltre... lo spaventum... nai bran e capitan bloodflag... oh... spaccate quel ca... quelli dei buzzer... ci possiamo chiamare quel che il ragazzo... parcerini... dai... vediamo a spare queste casse... ok... non so... capitan bloodflag... sai... quando... vita... ok... questo... spaventum... che è qua... ok... ecco questo ragazzi... sluga boi... ok... se... allora... non so... sluga boi... non so... chiamate... i duei... non so... non so... non so... ecco... niente... no... ecco... non so... Spara, uccidi, uccidi! Ma perché non male? Quanto ho? Posso scegliere? Nooo! Oh, cazzo, suonanana! Via, 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 via! Io ti hanno un tratto le ditte male, là-zu! Postiamo le nostre ditte superiore e giriamo l'intorno! Cazzo, muovetevi! Maledetti, Helter! Muoversi! C'è fiamme, qua! Un po' agulata! Un po' di coppa al corpo, ma nel... Devo dire... Nel gioco di... da tavolo o no? Iniziativa 2! Allora, andiamo qua giù! Ma c'è una cosa qua? Stavo... potremmo solo il mio... Che succede? Oh, addio voi! Oh, il mio proprio incauxiatore! Oh, l'ho visto nel giro! Ora sto facendo la mia squadra! Oh, l'ho visto nel giro! Oh, l'ho visto nel giro! Eh, eh, eh! Questo è il mio... Tra parentesi! Ok... Andiamo a parare con il Neil Street... Con il Centra... Con il New York, là! Corri! Ok... Uccidiamole... Stupide Elder... No, uccide tutti Elder... Tutti Elder... Aspetta... Spaventum... Spaventum, uccide qualcuno... Ci serve! Ammazza, Spaventum, dai! Cosa fai? Vieni qua! Mamma mia! Oh, cos'è? Armatura di Corcop... Per capo... Guarda che abbiamo... Eh! Oh, porti a leggere sopra, ragazzi... Non è che... Ok, posso chiamare altri orchi? Ok, sì... Aspetta, chiamare altri orchi... No, posso chiamare due orchi... Era perfetto... Boh, qua hanno... Cosa... Il incrociatore... No... Aspetta, chiamare i nostri carissimi orchi... Che arrivano... In una gruppetta... Eeeh... Una... Una... Eh... Sicurità di stanza... Ok, mettiamo... Che spawn, no? Una... Una con l'acciafiamma e l'altra con... E spara... Spara le bombe... Qui sono più... Ok... Ho più possibilità di... Mettere il capo... Uno... Andiamo... Nostro carissimo... Capitano... Blut flag... Blut flag... Quale? Non so... Non so... Carica... 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 Suppressione... Perfetto... Perfetto... Ma ma... Certo... Questa è la mia... Ah... In cont... Aspetta... Ecco... Dicevo che è meglio... E' la mia... Oh, mio... Cos'è? Un lanciarazzi... Un lanciarazzi... Compagni di guerra... Lanciarazzi... Abbiamo trovato... Ok... Andiamo qua... Salve... Eldar... Come la va? Spara... 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 E tu? Oh... Mamma... Mi evo che ti è morti.... Ok... Uccidi tutti... Vediamo cosa succede... ... C'era abbastanza risorse... Quindi possiamo... Quindi possiamo chiamare qualcuno... Non puoi stare... Basta... Aspetta un attimo... Non puoi stare... Aspetta... Tutte le risorse mi servono qua... Non so... Chiamare... Scusate... C'è qualcosa... Non c'è... Qua? Qua? Ok. Da parte, qua. E' finito? Ok, conquistiamo. Ehm, cosa? Abbiamo, boss, abbiamo! Cosa vuoi con me? Oh! 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 Oh, luta! Bestie! Aspetta, portiamoli qua dentro. Dentro, luta. Aspetta, per sapere cosa... No, un cazzo! Eh, non ci sono ancora più addosso, prima che... Prima che... Prima che... Che zia, una male. Ok, mettiamoci qua. Oh, oh! Oh, non posso guardare cosa faccio. Aspetta, senti la copertura. Eh, per me lo vedo. Non senti la copertura, eh! Qua cosa si fanno, cazzo? Qua che... quando è che vengono? Come uscire? Ehm, ok. Oh! Spara, spara, spara! Tiro 1! Tiro 1! Tutti morti! Tutti morti! Dove è finito questo? Che cazzo vai tu? Brutti idiota! Ah, guarda, da me. Ok, mettiamoci qua. Oh, arriva no! Spara, spara, spara! Spavento, che cazzo vai! Merde! Oh, mi ha detto le pezzi! No! Le pezzi, dai! Le pezzi! Le pezzi! Le pezzi! Cosa posso muovere? No, non posso nessuno, se sei morto, non credo. Qua, posso muovere? No. Cazzo spuntano! Andiamo! Spuntano, dai, diamo! Spuntano! 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 Che succede, che succede? Attenzione! Arrivano! Nooo! Non sono spuntano, non sono spuntano, scusate. Sono altri, non mi ricordo. Aspettate, adesso leggerò. Cosa? No, aspetta, aspetta guardia. Carica, cazzo! Ammazza, ammazza, ammazza! Carica! Ammazza, aspetta, guardia, ammazzali! Eh, ammazzate! Dimmi che ammazza tutti i venuti! Ammazzali! 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 Cosa che è scattałem da rego. Che ragazza, ragazza. Sempre non so nemmeno... Ma quando? Imi neri come... scupi? Scusate ai indietari! Imi neri, ammazzali! Uuh... Uuh... Vale... Ma tu vai su, tu vai su qua, tu vai su qua, picca. No, cazzo, no. Ah, ma pensai, uccidi le pensai, uccidi le pensai. Uccidi le pensai, uccidi le pensai. Ok, cazzo, sono bastardi le pensai. Urlanti, spara, 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 spara. No, cazzo, scutano adesso. No, no. Ciao, non c'entro per niente. Non muo precisamente. Spara, spara, spara. Morite le pensai, cazzo, sono bastardi le pensai. Ok, la difesa è una cittura. Non cazzo per chiedere il tuo nemico. Aspetta, prima la conquistiamo tranquillamente questo posto. Ci sono altri orchi. Guardate, ragazzi. Ci guarda, poca vita hanno. Non cazzo, mamma mia. Questo dovrebbe essere valutato a me. Abbiamo avuto, Marce, abbiamo avuto. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Sì, cosa è? Ho avuto. Cosa vuoi? Come. Mi sono, tec. Guarda, non lo sguardo. Noi, che cosa c'era qua. Noi, voi, non lo sguardo. Ma cos'è qua? Uuh, cosa c'era qua? Dove. Sì, non lo spiego! Oh Dio, lo amo, lo amo! Cap... pluffo! Epic! Oh cazzo! Dov'è la troglietta? Eccola! Oh mia! Dove è Tina? Prendetela! Ammazzatela! Ammazzala! Bravo! Andiamo! Questa cazzo è potente! E' lui questa... Butta qual è? Dai! Mister... Mamma mia la butta! Lissa! Spietata! Cazzo arrivano! Cazzo no! Cazzo no! Dove ho bisogno di partire! No! No! Arriva qua! E' qua! E' qua! Via! Spavento! 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 Ma ammazzati i cicchini! No aspetta! No! Il mio medico! No! Perché c'era qui? No! Ammazzatela! Ammazzate quella troia! Perché non va No Ammazzala No No vieni però Ma tu muori Speramente uno ammazzala Dai Dai Ammazzala Ammazzala Speramente tu che cazzo fai? Aiutas Ammazzala 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 No Finalmente Spokatela capriano La tua vittoria è un po' da salvare Tu sarai sbagliato Nooo, stupida Elda Calietta! Non sei un'ottomossia quando hai scelto il mio incrociatore! Guarda come sei ridotta! Noo, guarda! Perché sono Kanna? Oh no... Cosa c'è? Capitano? Capitano? Non lo so, signor Nelling! Non lo so, è ancora sassi in queste tonte di Eldar! Capitano, sai che io non sarei normalizzato quando hai scelto il mio incrociatore! Crescente e fortemente armato, Capitano! Parle! Ma che vede e sagra! Capitano Blodflag... Hai fatto un nome per te stesso per lontare i peggiori di questo cittadino. Capitano, sei anche un mercenario di loro. Si, cosa hai fatto per te? Voi i tuoi figli e i tuoi ragazzi qui! Sei uno di questi tipo di immagini di tempo! Hai pensato che te fossero più per la città di occhi e di pangli. Mi piace la tua capa, peraltro. Sono qui per te offerti una proposta di negoziare. C'è un hombre, una marina di spasso, che vorrei che ti muiare. Capitolo Master Kyrus, dei Bludraveni, potremmo sei familiarizzato con lui? Non so uno di quei due miei, ma Spacemalines è morto! Ma che vuoi? Perché se non è eliminato, questo interno subsectorio sarà obliterato. E' una troia! Obliterazione, eh? Non si può essere buono per me e i miei ragazzi! Cosa c'è per un grande blu di freddo? Giallo di teo è semplice, giallo di tecnicità è ovviamente senza questione. Ma posso darvi una guerra. Trei regiments imperiali, un campo di campo per la tua scelta. Sì, giusto, non mi ha capito. Sì, non mi ha capito. Non mi ha capito? Non mi ha capito! Perchare il tuo passio in un nuovo gioco E' un nuovo gioco E' un nuovo gioco Che si è piaciuto il gioco per lo stupendo il gioco D'accordo Non pensi che la scuola ha avuto il gioco Cattano? E' un gioco 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 Non mi rendi assoluto che non hai mai parlato del Capitano Nostragg! sono delle cose, allora vediamo il capo dei cagliattatori senza per un capo leader non so con quei disdentati i benzetti di bichichi che mi tenono tutti il capito capitan, credo che il me ha fatto il tuo sangue con il plasso il il tutto, ma stompare una marina spazia non si vanno molto più difficile da questo non potrebbe essere un po' più lovano da questo? i'e inquisitori non possono essere confiati più a più da che possono essere tratti in questo caso, potrebbe essere un buon esempio No, lei ha proprio cercato di uscire, non importa qualsiasi di attacchi abbiamo avuto. Questo ora è tutto in una stessa traccia. Eccolo dei giorni, cap'an, quindi ora possiamo rompere la traccia! Eh, ragazzo. Non posso potenziale una... Uuuh! Uhuh! Oh, con del pacciere che la... ...la chiele! Oh, sì. Aspetta, cos'è questo? Amatoci. Mature... ...ehm, eh, eh. Ehm, eh, eh. Mazzia a capo. Bene, compagni di guerra! Cosa? Tra. Oh, boh. Se vorrei... Non mi ha vinto insieme a questi costi... poi mettiamo un... Scatto! Scatto! Bene! Ne piace tanto! Nostro capitano... eh niente... Capitano potenziamo velocemente... Stica... Stica voli... Sicuramente cosa mettiamo? Il campo di forza... vostra misura un cazzo ti odio non ho fatto niente oggi giusto 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 va bene ehm lui che è quello che abbiamo visto per ammorto non può prendere questo cosa mettiamo frenesia frenesia ok al prossimo video compagni guarda ciao